La mattina alle 9 io ho chiamato l'amico Massimo Moratti e ho detto Massimo, allora che facciamo con Pander? Che tanto da te? Credo che giocherà pochissimo. Io me lo vuoi dare in prestito per quest'anno, poi vediamo come si evolve la cosa. Visto che lui non è giovanissimo, ma non è vecchissimo, può avere una sua giusta e concreta collocazione nel Napoli e c'ha tutti i numeri per poter convivere sia con l'Avezzi che con il signor Cavani. Visto che le partite sono tantissime tra Coppa Italia e quelle del campionato, ce ne abbiamo già sei sperando di superare il turno, il che non è poi impossibile, i Champions, e Massimo mi ha detto va bene Aurelio, ci siamo messi d'accordo in un secondo perché è un signore. Dopodiché ho detto senti Massimo facciamo una cosa, io adesso vi so Bigon che sta ancora a Monte Carlo, fra quanto ti possiamo richiamare in conference? Dico così mettiamo in conference Bigon, Branca, te ed io e formalizziamo da un punto di vista tecnico come vogliamo fare questo contratto. Nel frattempo vi ho avvisato Bigon, Bigon ha subito rintracciato il procuratore del ragazzo, che tanto poi i procuratori sono sempre tutti preavvertiti durante la campagna acquisti, che poi si risolva o non si risolva un acquisto. È chiaro che io di Vander non mi ho mai parlato e vi ho detto che per me il mercato era chiuso perché chiaramente volevo prima vedere che tipo di calendario avevamo e mi volevo rendere conto anche dello stato di preparazione dei nostri. Adesso abbiamo questo svantaggio da un lato che il campionato non parte ma il vantaggio di poter diciamo continuare ad allenare chi è arrivato in ritardo come Cavani, come il Pocio, quindi poi voi sapete io ho sempre detto che per me i campionati mi farei partire a metà settembre o a fine settembre, quindi il fatto di non doverci fermare semmai a Natale mi fa felice, non mi fa scontento. E quindi questa era una prima notizia che sicuramente voi avrete avuto perché mentre venivo in barca da carri vedevo su Skype che già con qualche imprecisione o indecisione o chiarimento che loro stessi si ponevano stavano dando, quindi ovvio che da questa mattina alle 9, 9 e mezza quindi alle 10 e mezza era tutto concretizzato, averla tenuta nascosta fino a qualche ora fa è già stato un record. In Italia mi ne frega un cavolo a nessuno se il bilancio dello Stato va a rotoli ma per il calcio si fa questo ed altro.